E bella boys benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi avete sentito del nuovo metodo per supportare noi content creator? Cosa? No? Te lo spiego subito io. Allora in sostanza basterà andare su item shop e nell'angolino in basso a destra dov'è il tuo rettangolo con scritto supporta creator. Basterà cliccare su questo rettangolino e scrivere all'interno il mio nome ovvero croatomessi. Mi raccomando ragazzi scritto in questo modo non sbagliate a scriverlo perché molto spesso vi sbagliate. Facendo così ragazzi voi in sostanza ogni volta che shoppate qualcosa appunto nello shop supportate anche me indirettamente. Quindi ovviamente è un modo per appunto supportarmi. Quindi io ringrazio in anticipo a tutti coloro che inseriranno il mio nome sul supporta creator e che appunto hanno deciso di supportare me indirettamente. Inoltre ragazzi voglio anche ricordare che mi trovate live streaming ogni giorno dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 2 di notte e trovate il link della mia live streaming ragazzi nel commento di ogni mio video. E anche appunto nella descrizione. Detto questo ragazzi godetevi il video grazie ancora per il supporto e let's go baby! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti!